Ciao a tutti e buon inizio di settimana! Una settimana per me elettrizzante, in quanto potete anche invidiarmi. Mercoledì sarò a Manchester per vedere il ritorno tra City e Real Madrid. Sono gasatissimo, soprattutto dopo il risultato dell'andata, e quindi credo che questa sia la partita di questa stagione, esserci un grossissimo privilegio. Ma parliamo di dinamiche juventine, iscrivetevi al canale, attivate la campagna delle notifiche e lasciate un bel like, perché agli attenti osservatori non è passata inosservata l'assenza di Giovanni Manna in occasione del derby della Mole. L'ormai ex DS della Juventus era assente, non era sugli spalti dello stadio Grande Torino. Lo stesso giuntoli pre-match ha detto, virgolettato la mano, stiamo parlando con Manna per capire il suo percorso nel rispetto del club. C'è poco da parlare, nel senso che Giovanni Manna, ormai lo sanno anche i muri, sarà il prossimo direttore sportivo del Napoli. Quando sarà possibile firmerà un contratto quinquennale, quindi un'investitura non di poco conto da parte di Aurelio Di Laurentiis nei confronti del giovane manager che sarà un po' chiamato a ricostruire l'area sport del Napoli e soprattutto sarà chiamato, coesistendo con il patron che è piuttosto ingombrante, a ricostruire una squadra che anche ieri ha proposto delle grandissime lacune a livello mentale, vedi il pareggio interno con il Frosinone. Però non ci interessa granché di quello che farà Giovanni Manna con il Napoli. Massimo rispetto per lui, ma sarà a tutti gli effetti un avversario e quindi speriamo che possa fare un ottimo lavoro, ma che porti sempre il Napoli dietro la Juventus. Ci interessa capire come, giunti al 15 di aprile, la Juve gestirà questa situazione. Perché, onestamente, sono già due settimane piene che sappiamo di questo passaggio e in generale vedere Manna che esultava all'Allianz Stadium ormai già da direttore sportivo virtuale del Napoli secondo me non faceva onore né alla stessa Juventus ma neanche allo stesso Manna che poi deve andare a lavorare al Napoli e quindi magari viene etichettato come tifoso juventino eccetera eccetera eccetera. Io credo, innanzitutto, che Giovanni Manna sia stato un ottimo professionista, che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve, che l'abbia portato meritocraticamente a ottenere la promozione. Vedi l'operato dello scorso giugno, quando in attesa di Cristiano Giuntoli comunque è stato lui a fare tutte le poche operazioni che si è potuta permettere la Juventus nell'estate 2023. Vedi l'acquisto a titolo definitivo di Milik, vedi l'accessione di Kulusevski al Tottenham, vedi il rinnovo di Rabiot, vedi l'arrivo di Timothy Ueha dal Lille. Tutte quelle operazioni sono state portate avanti principalmente da Manna, quindi il suo lavoro anche con la Next Gen è stato un percorso davvero meritocratico, partito dal settore giovanile fino alla prima squadra e che dimostra come questo dirigente abbia importanti potenzialità, poi molto giovane, quindi sicuramente saprà migliorare ulteriormente. Però immaginiamoci un po' la situazione, no? Se la Juve, c'è Cristiano Giuntoli, c'è il suo braccio destro che comunque è promesso sposo al Napoli, come puoi consentirli di partecipare a tutte le attività che riguardano l'aerosport? Poi sicuramente una vecchia volpe è navigata come Giuntoli, i piani segreti, quelli concreti, una volta capito che Manna sarebbe andato al Napoli probabilmente, sicuramente, anzi non li avrà condivisi con lui, ma a livello di società, a livello di persone che al momento hanno potere all'interno dello stesso club, è più che comprensibile, a mio modo di vedere, che si sia deciso di interrompere immediatamente l'attività di Giovanni Manna, cioè che non sia più partecipe a tutte quelle tematiche che riguardano la prima squadra, lo spogliatoio, le strategie, perché sarebbe quasi surreale pensare che la Juventus possa condividere con Manna, prossimo acerrimo rivale, ciò che dovrà fare. Poi viene anche a considerare che Manna questa stagione intera la spesa al fianco di Giuntoli e quindi certe cose le saprà automaticamente e certe cose, evidentemente, magari le pagheremo anche in termini duelli di mercato, di sondaggio e quant'altro, fa parte del gioco e credo che lo si debba accettare, ma il fatto che si sia interrotta l'operatività di Manna, di cosa si intende? Banalmente, non più la sua presenza alla continassa e io credo che sia cosa non giusta, ma giustissima, anche per dare un segnale, cioè Giovanni Manna ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025, quindi la Juve farà anche un favore, se vogliamo, al Napoli, concedendo al club di De Laurentiis di mettere sotto contratto Manna con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale dello stesso contratto, un po' come ha fatto lo stesso Aurelio De Laurentiis con Cristiano Giuntoli, ma con tempistiche differenti, perché vi ricordate perfettamente che Aurelio De Laurentiis ha aspettato proprio l'ultimo giorno, l'ultime ore per liberare Giuntoli e fare in modo che poi la Juventus, in caso di accordi, non avesse dovuto chiedere deroghe e quant'altro, quindi da questo punto di vista mi sembra che la Juventus si stia comportando molto meglio e con maggiore classe, però questo non è una Juventus che ha i ferricorti con Manna, non è una Juventus che rispetta la decisione di un professionista, che fa un salto in termini di ruolo, perché qua il numero uno non l'avrebbe mai fatto fin quando almeno c'è Cristiano Giuntoli che ha altri quattro anni di contratto, al Napoli, da un punto di vista del ruolo, sarà il numero uno dell'area sport, ovvio che devi coesistere con il presidente che è dei più vulcanici, ma anche con altre anime del Napoli, vedi il capo scouting, ma più di un capo scouting, lo stesso Micheli, che ha una presenza molto ingombrante, nonché una persona molto rispettata dallo stesso De Laurentiis, però il quadro si chiude così, si chiude come si deve chiudere, per fare in modo che poi la Juventus non abbia futuri collaboratori, dipendenti di altre squadre all'interno della sua azienda, e che gli stessi poi possano venire a conoscenza di determinate strategie, di determinate decisioni, perché per quanto si possa rispettare il professionista, per quanto si possa rispettare l'uomo, comunque è già uno che nella sua testa lavora per il Napoli, poi potrà farlo con i tempi dovuti, post firma sul contratto, ma mentalmente Manna sta facendo quello che a un certo punto ha fatto Giuntoli con la sua testa, con la Juve, perché sicuramente i contatti tra Giuntoli e la Juventus saranno partiti come sono partiti nelle tempistiche quelli tra Manna e il Napoli, ma da un momento che un professionista già decide di cambiare aria, e si vede già nel nuovo ruolo, è dentro a controproducente che resta in quell'ambiente, perché da un punto di vista motivazionale non darebbe niente, da un punto di vista delle strategie non darebbe niente, perché non verrebbe più automaticamente, giustamente, lo ribadisco in maniera sacrosanta, coinvolto, quindi è bene salutarsi, è bene cessare fin da subito questa operatività, fare gli auguri al professionista di poter fare bene al Napoli ma non troppo bene, quindi di rimare dietro la Juventus, ma non c'è nessun giallo, non ci sono ferricorti, c'è semplicemente un'azienda che ha ragionato d'azienda e che ha preso la decisione che doveva prendere. Poi adesso a me quello che interessa è vedere concretamente quanti uomini scelti da giunto li arriveranno a Torino, sicuramente due, già sappiamo che braccio destro e braccio sinistro sono già pronti a sbarcare qua, all'ombra della mole, parlo di Pompiglio, parlo di Stefanelli, ma come vi ho detto ci sarà sicuramente anche una terza figura che probabilmente andrà a ricoprire il ruolo di capo scout, vediamo il nome, e non è detto che finisca qui, perché c'è anche da capire concretamente un po' la permanenza di Scaglia che attualmente è responsabile del settore giovanile, ma bisogna ancora mettere totalmente i puntini sulle I, mentre l'altro dirigente in scadenza Federico Cherubini anche lui saluterà a giugno la Juventus. Tutto ma proprio tutto su Manna, spero di aver fatto un quadro chiaro, mi raccomando, pioggia nei commenti!